Allora, gli Evory Moon vi invitano a visitare la loro pagina Facebook, a mettere like, il sito, mi raccomando, abbiamo anche del merchandise, quindi accorrete numerosi. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Ok. Vorremmo ringraziare innanzitutto il locale e tutti quanti voi che siete, voi che siete venisse, una commedia di Shakespeare, perché non l'avevo escessa. Vabbè. Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti